Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, riprendiamo la nostra partita da Air Billions Siamo per essere attaccati a Nord, non so dove, ho diviso le truppe in tre gruppi Stanno andando tutte quante su e poi ne stiamo producendo delle altre Stiamo producendo anche i giustizieri, entro nove ore saranno di sicuro fatti Spero Sì E dovrei riuscire a mettere giù magari anche qualche torre Eh, più di una Allora aspetta Eh, da questa parte però non posso metterle ma ora voglio farlo Allora Viene anche il ferro E la legna Manca sempre l'oro Magari riesco a mettermi giù qualcuno anche qua Un 3 dovremmo permettercele, poterci permettercele 2 Arriva a 900 Ok, ne posso mettere giù di più Eh, manca la legna Vabbè, ehm Il numero corto servisse Siamo queste Buon'ora arrivano Eh, questi qua non sono le cacchie Possono servire Forse qua hanno malati troppi Boh Facciamo una parte di questi qua Ok, sono arrivati No È un'orda di sputoni Ok Siamo Virtualmente morti Dai Quanto ci mettono questi Arrivano anche di qua? Ok Questi Andateli qua Qua in mezzo non c'è Letteralmente nessuno Va diavolo Ok Ok Ok, qua ne stiamo sparando di brutto Eh, qua Qua stanno distruggendo tutto Ok Qua sono un botto Hanno già distrutto tutto Qua? Qua entrate dentro per Diana Non so perché sto dicendo per Diana Ok Ok, a questo punto dove siete siete Attaccate Spusatevi qua Andate lì dentro Forse ci siamo Questi fanno il giro Allora Qua ce l'abbiamo fatta Praticamente Venite qua Anche qua, via Qui Qui No, la produzione è qua Qua ne perderò un botto Ok, ho vinto praticamente tutte le parti Allora Allora, facciamo così Chase Chase Te invece Torna qua Dunzella Delle vibrame Va nel castello Perfetto Non sono tanti Non sono tanti Ok Ok Che fanno il giro questi Eccoli qua Comunque Qualca massacro Qua sono distrutto tutto Pure di qua Sì Allora La prossima ondata è fra quattro giorni Io ho pensato fosse Fra qualche giorno in più E invece fra quattro cacchie di giorni Porca miseria Ok Potenzia tutto E E basta Non c'è più speranza Dovrei riuscire a chiudere l'ovest Nel tempo in cui c'erano ondata Ora No vabbè Ora mi manca la pietra Manca tutto Io qua lascerei questi dentro Le mura Già che ci siamo Qua vediamo di rifare la stessa cosa Ma qua è indiscendibile Devo mettere molte più torre con soldati E E boh Sperare Ora Proviamo a ragionare Se Sono arrivati gli sputacchioni Vuol dire che La prossima ondata È peggio Quindi o è un'unione di qualcosa O Sono I giganti O i mutanti I mutanti sono più deboli dei giganti I mutanti sono più deboli I probabilmente sono mutanti Probabilmente sono mutanti Probabilmente Allora Io qua voglio fare più case Quindi Ce ne sta anche mezza Ok Eh siamo davvero sotto Di risorse C'è più che altro che davvero sto continuando a spenderle Prendi tutto voglio riparare Il muro qua Poi Proviamo a spenderlo Le torre hanno fatto un ottimo lavoro Le torre hanno fatto davvero un ottimo lavoro Eh Sono curioso di vedere qua com'è la cosa Allora Potremmo chiuderci qua 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 e qua O qui Va direttamente qua direi Posso mettere molte più difese tra qua e qua E mettere un qualcosina qui Ok Qua riesco già a chiudermi Qua Facciamo Così dovrebbe essere sufficiente Non so se ho sentito per questa curva Pia direttamente Tutto è buona Qua invece possiamo fare delle sacche un po' strane Ok Ok Allora Questo è il livello Massimo di distanza Dove posso costruire cose Vendi tutto Mi serve più roccia Potremmo nel frattempo Investire un po' di soldi In una miniera qua Destinata Ad altri usi Ok Qua mi sa che c'è troppo spazio Quindi E poi se dobbiamo comprare tempo Ovviamente facciamo un ulteriore strato di Schifus Mancano solo due giorni Cioè se mi attaccano da qua Che cosa facciamo? Boh Speriamo sia ancora Da questo lato qua Teoricamente Ci siamo No Ok 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 qua l'abbiamo fatto Qua si può passare Dei maledetti Come fanno a fare la mappa così? Poi chiudiamo qua E chiudiamo qua Ok Manca tutto l'angolo qui Ok 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 In fondo Vabbè l'angolo è sempre un po' una schifezza Va bene così Ok Di questi non ho perso stanzialmente niente Giorno 65 Dai Salataggio automatico infinito Ancora uno Ah Ok Poi Qua va bene E poi faremo da qua A qua Allora io qua Posso costruire fino a qui Inizio a farla di legna Perché almeno costruisco anche il resto Ok 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 Va bene Doppio spazio Questo Doppio spazio Questo E basta Questa Dovremmo poterla mettere qua Pizz Dai 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 Avvia sto ferro Che non botto È l'oro il problema Solo che Questa mappa dovete arrivare Al giorno 49 Con l'economia fatta Perché dopo È tardi Punta Cuesta Poza 可以 Suice Vendi questo Vendi sta roba Vai via Legna del cacchio Non so da che parte attaccheranno Quando attaccano poi Potenzio Magari quello Adesso va bene così Che bello costruire in verticale Muro Cioè Non si sbaglia neanche volendo Facciamo così Via 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 E via E via Ok Allora abbiamo il muro dopo Da tutte le parti Adesso Loro attaccheranno Non so chi E non so che cosa Ma so E non so neanche da che parte In realtà non so proprio niente E qua non ho nessuna sorta di difesa Facciamo così Qua dovrebbe bastare No qua Uno shocking tower Ce la devo mettere Per forza Ok Qua La difesa C'è Ah best Allora E' proprio di qua E' proprio di qua Potrebbero arrivare anche da qua Ma teoricamente sono pochi Spero Faccio uscire tutti E li mando qua A voi Andate qui Faccio la metà qui Metà qua Poi Allora Tra quanto cacchio Arriva l'oro Tra un botto 12 ore Ma Manca solo l'oro Però No la prima cosa La prima cosa da fare Potenziare queste Senza nemmeno Pensarci Assolutamente Roccia Vediamo tutto il resto Solo roccia No la prima cosa male, in realtà, tu vai qui, ok qua sta arrivando un po' di gente, non tantissimo ma qualcosa, qualcuno deve andare anche qua, che questi li ho potenziati, ora posso mettere giù questi e mi metterli qua, mi sto sulle balle perché non riesco a distanziare queste come vorrei, allora vediamo un po', così teoricamente, teoricamente ok, poi non ho avuto un po' di ok, sono tizi pericolosissimi, aiuto! eh qua è grigio ragazzi, non ho praticamente difese qua forse sì cerchiamo di non morire almeno in un punto, ma quanti cacchio sono? ok, andate qua ma oddio, forse è proprio qua a nord che ho più difficoltà? sì eh sì, qua non è così complicato qua? mi stiamo prendendo un po', ma... allora voi attaccate questo, voi attaccate questo, voi attaccate questo, ok, due sono morti, ok, no, ce l'abbiamo fatto, dai, fatto! mazzalo! mazzalo! che ce la fa? fatto! wow! allora tutti quanti qui in mezzo per favore non è lei che è nel castello ripara tutto sì, non c'è palgone nord è stato quello più strano non mi hanno ancora attaccato a sud quindi presumo attaccheranno qua e a questo punto presumo che saranno giganti gli ultimi sì sì, per forza non ha senso che non siano giganti al cibo ce l'ho è questo sì 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 Ok, anche perché voglio fare più truppe e non ho abbastanza roba, quindi ora costruiamo un po' di case. No! Quindi se, no, cioè non ho buttato via niente, ma se potenzi una casa di livello zero mentre la stai costruendo devi rifarla. Bene. Allora, qua stiamo, a questa distanza se no non passa nessuno, lascio due. Perché mentre le stavo così ho detto perché non le faccio di legno, che tanto non mi interessa più, perché le case di legno sono le migliori dal punto di vista costo efficiente. queste qua ovviamente tengono dentro più persone, però io sono anche scarso di energie ora. Allora. 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 cerchiamo di darci un boost economico almeno fino al giorno 70, quindi pensiamo solo all'economia. solo e esclusivamente economia. Allora. Allora. Eh, come pensavo non posso fare più altre banche, quindi questa non è proprio il posto migliore, dell'epoca. Allora. Allora. E' suonato il timer? Allora. non so se l'ho fatto partire ma siamo a 35 minuti quindi direi che ci possiamo salutare qua ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio in cui insomma continuiamo con questa quella solita routine adesso ci saranno ondate a questo punto sono al 100% giganti dobbiamo riparare tutto quanto sono più forti i giganti di questi quindi mi saranno più truppe e poi devo capire dove cavolo devo difendermi potrebbe essere davvero ovunque non ho nessun indizio siamo 4.600 di popolazione non so questa qua la tengo perchè se mi sfondano qua è una micro difesa qua forse era da tenere effettivamente dai ci salutiamo qua e ci vediamo nel prossimo episodio in cui continuiamo la missione della dea della desolazione come tutti i chiami che non l'ho ancora capito gg a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti